Il Cimitero della Certosa Una sanzione da 400 euro a un locale fracassone in piena zona universitaria, multe a ubriachi, molesti e sei baby spacciatori arrestati e il bilancio dei controlli fatti a Bologna nella sera di Halloween che lascia dietro di sé l'immancabile scia di polemiche. Chiudere l'inchiesta sul piano sosta in tempi rapidi è l'appello che arriva dal comune di Bologna. Mi auguro che il magistrato contabile non impieghi dieci anni a dare seguito alla relazione della Guardia di Finanza, sottolinea la vice sindaco Silvia Giannini. Partirà tra pochi giorni la campagna per il vaccino anti-influenzale. La regione coprirà i costi per le categorie a rischio, bambini, malati, cronici e anziani. Over 65 il vaccino è consigliato anche per coloro che lavorano a contatto con il pubblico. Buonasera, benvenuti a ETG Bologna. Oggi 2 novembre, giornata tradizionalmente dedicata al ricordo e alla commemorazione di tutti i defunti. Grande l'afflusso nei cimiteri bolognesi in questi giorni di ponte e di festa in cui appunto molti cittadini hanno scelto di restare a casa per ricordare i propri cari recandosi sulle loro tombe. Andando alla Certose e al cimitero di San Lazzaro in particolare ci siamo resi conto che crisi o non crisi i bolognesi non rinunciano ai fiori per i loro cari, piuttosto se possono cercano di risparmiare un po'. Ma per saperne di più vediamo il servizio di Simona Iannessa. Oggi 2 novembre, giorno della commemorazione dei defunti. Grande afflusso qui al cimitero della Certosa di Bologna di persone che in questi giorni hanno deciso di dedicare un pensiero, un ricordo ai propri cari. Noi siamo andati a sentire anche tra i fiorai se davvero la crisi di cui tanto si parla si sta abbattendo anche sull'abitudine, la tradizionale abitudine di portare fiori e piante sulla tomba dei propri cari. Andiamo a sentire che cosa ci hanno detto dunque. Sono molto contento, il lavoro procede bene, soprattutto per il merito della stagione. Non avete sentito la crisi quest'anno? No, direi di no, si è lavorato bene. C'è stato un po' di calo rispetto agli altri anni, però abbiamo lavorato abbastanza bene. I prezzi? I prezzi come gli altri anni, non c'è stato nessun aumento. Pur senza troppi entusiasmi dunque i fiorai sembrano complessivamente soddisfatti dell'andamento delle vendite. Certo la crisi picchia duro sul portafogli, ma i bolognesi non rinunciano a portare fiori sulla tomba dei propri cari. Magari, se possono, piuttosto cercano di risparmiare, di acquistare la composizione più economica. È calato molto l'acquisto dei soliti garofani che costavano parecchio e si sono orientati più che altro sul fiore singolo, però che costa un po' meno. Anche se non rinuncia al fiore, perché devo dire la verità, la flusso è stato tanto, però preferisce prendere non solo l'orchidea da 1,50, piuttosto che il solito crisantemo che comunque costa 2,10, anche se sono 10 anni che costa sempre 2,10. Si è orientata molto sul crisantemo, per quanto riguarda noi, e sulla rosa da 1 euro. Scontenti e insoddisfatti invece i fiorai del cimitero di San Lazzaro, che lamentano un calo significativo nelle vendite. Tutti gli anni cala, 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 il lavoro cala. E quando sei alla fine il guadagno rimane nei vasi. E' proprio anche la crisi, che prima prendevano 10, 7, 8, 10, facevano il vaso dei crisantemi, adesso ne prendono 3. Mi dà un bel po' di verde, mi rendo conto. E sempre oggi 2 novembre il cardinale arcivescovo Carlo Caffarra ha celebrato una santa messa nella chiesa di San Girolamo della Certosa, messa per tutti i defunti, la chiesa era particolarmente piena di fedeli, nell'omelia il cardinale ha parlato dell'enigma della morte, il servizio. La piccola e suggestiva chiesa di San Girolamo della Certosa si è riempita di fedeli, in mattinata per la celebrazione della messa per tutti i defunti, celebrata dal cardinale Carlo Caffarra. Presenti tra gli altri anche il vicario giudiziale Monsignor Stefano Ottani e padre Mario Micucci, rettore della chiesa della Certosa. Davanti ai tanti venuti a rendere omaggio ai propri cari, il cardinale ha parlato nell'omelia di quello che ha definito l'enigma più indecifrabile, e cioè la morte delle persone amate. Soprattutto in questi giorni ci fermiamo davanti al sepolcro dei nostri cari, dentro il quale si trova il loro corpo, corpo che è soggetto alla corruzione, che ne è di loro. Qual è la loro condizione attuale? Se noi teniamo presente, quanto ho detto finora, che cosa è ultimamente cari amici, la morte, il morire? È l'essere con Cristo. I nostri cari sono con Cristo. Perché, come vi dicevo, mediante la fede e i sacramenti, noi siamo entrati in Cristo. E neanche la morte potrà separarci da Lui. Ultimo pagina, dopo le polemiche degli ultimi giorni, la festa di Halloween continua a creare e a sollevare altre polemiche, altre discussioni. Questa volta per il degrado che ha lasciato nel centro di Bologna, dove non sono mancate le denunce delle forze dell'ordine, e anche una multa per un locale della zona universitaria. Ci informa Federico Balletti. Una multa da 400 euro a un locale fracassone, in piena zona universitaria, dove sono stati multati, come prevede la legge, anche diversi ubriachi molesti. In più, sei giovanissimi spacciatori arrestati nei presi di discoteca della periferia. È il bilancio dei controlli fatti a Bologna da polizia, carabinieri e vigili urbani nella serata di Halloween, che ha lasciato dietro di sensi, ma cocci di bottiglie e sporcizie, anche l'immancabile scia di polemiche. I controlli antidroga fatti dai carabinieri hanno dato frutti soprattutto nella zona di Via Mattei. Sei giovanissimi, età compresa fra i 17 e i 21 anni, sono finiti in manette, perché sorpresi a vendere piccoli quanti attivi di chetamina, ecstasi o marijuana. Molti dei controlli, però, sono concentrati nella zona universitaria, teatro di festeggiamenti, fino a notte fonda. Oltre alle denunce di un uomo trovato con in tasca un coltello, e di una ragata di 19 anni, sorpresa a fare i propri bisogni in Via Petroni, spicca la sanzione da 400 euro al titolare del bar Balanzone, sempre in Via Petroni. Secondo la polizia, non si sarebbe preoccupato di allontanare la folla di gente che stazionava davanti al locale, impedendo il transito dei passanti. La multa scaturisce dal mancato rispetto di un apposito articolo del regolamento di Polizia Urbana, che impone ai gestori dei locali di fare rispettare la quiete pubblica, vigilando anche sui clienti. Proprio su quanto è successo nella notte di Alun, nella zona di Via Petroni, è pronta a dare battaglia la Lega Nord di Bologna. Il capogruppo in comune, Manes Bernardini, punta il dito contro la giunta di Virginio Merola, accusata di non avere potenziato l'organico di Polizia Municipale in una notte a rischio. Bernardini vuole sapere il numero esatto di chiamate giunte dai residenti per vagliare la tempestività degli interventi, e anche quante eventuali sanzioni sono state combinate. La multa al barista di Via Petroni evidenzia comunque che qualcosa è stato fatto. È diventata un caso nazionale la chiusura per lutto di un ufficio della motorizzazione di Bologna, che lunedì ha abbassato in anticipo le serrande per consentire ai dipendenti di andare al funerale di una collega. Sulla vicenda ci vogliono vedere chiaro sia la Procura di Bologna che il Ministero dei Trasporti. Il servizio. Due inchieste, una della Procura di Bologna e una del Ministero dei Trasporti, sono state aperte sulla chiusura per lutto di un ufficio della motorizzazione civile di Bologna. Gli accertamenti sono scattati dopo che lunedì mattina un cittadino che doveva sbrigare una pratica ha trovato sulla porta dell'ufficio passaggi di proprietà il cartello che spiegava il motivo della chiusura. Stupito, l'uomo ha chiamato la polizia che da un responsabile ha ricevuto la conferma che l'ufficio era stato chiuso prima del previsto per permettere ai sei dipendenti di andare al funerale di una collega morta qualche giorno prima dopo una malattia. Per fare luce sulla vicenda, il procuratore aggiunto Walter Giovannini ha aperto un'indagine per ora di tipo conoscitivo ma in teoria si potrebbe configurare l'interruzione di pubblico servizio. Nei prossimi giorni il dirigente della motorizzazione civile di Bologna verrà così sentito in procura per fare luce sui tempi e sui modi con cui ha preso la decisione di concedere ai dipendenti di anticipare appunto per lutto la chiusura al pubblico. Anche il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti vuole vederci chiaro. Il Ministro Matteoli ha chiesto una relazione al Direttore Generale Competente e ha disposto un'indagine amministrativa per accertare l'accaduto. Cambiamo argomento. Dal 2007 a oggi gli autovelox dislocati dalla provincia di Bologna lungo le strade di competenza hanno reso alle casse di Palazzo Malvezzi circa 34 milioni di euro. La gestione del sistema e la riscossione delle infrazioni comprese quelle per il mancato rispetto del rosso nei semafori a sanzionamento automatico era affidata alla società Area Blu. Da oggi non è più così. Una delibera discussa in Commissione modifica le competenze affidate ad Area Blu che continuerà solo ad occuparsi di riscossione ordinaria. Per quella coattiva interverrà direttamente la provincia. Palazzo Malvezzi si occuperà di incassare direttamente le somme derivanti dalle ingiunzioni di pagamento, un tesoretto valutato in oltre 24 milioni di euro. La provincia fa sapere di voler migliorare molti aspetti della riscossione coattiva e per questo ha deciso di gestirla direttamente. Se poi questo non dovesse causare carichi di lavoro troppo significativi, conclude la provincia, si cercheranno alternative compresa la concessione in appalto ad aziende specializzate. E continuiamo a parlare di entrate nelle casse degli enti pubblici. Dalla lotta all'evasione fiscale negli ultimi due anni il Comune di Bologna ha incassato solo 144 mila euro. Colpa di burocrazia e regolamenti. Vediamo. Chi sperava nell'evasione fiscale come panacea di tutti i mali del bilancio del Comune di Bologna si sbagliava di grosso, almeno per quanto riguarda le cifre fornite oggi in Commissione bilancio dalla vice sindaco Silvia Giannini. Da un punto di vista strettamente numerico la lotta all'evasione fiscale regala più fatiche che i risultati. Dal 2009 a oggi, snocciola ai dati Giannini, il Comune di Bologna ha fatto 1045 segnalazioni all'Agenzia delle Entrate che ha dato seguito a 232 controlli. Queste verifiche hanno accertato un maggiore imponibile per 15 milioni di euro e maggiori imposte per circa 3 milioni. Di tutto questo Palazzo d'Accursio ha riscosso 1,5 milioni ma effettivamente incassati risultano solo 144 mila euro frutto della prima tranche di trasferimenti. La cifra destinata al Comune di Bologna, sottolinea Giannini, rappresenta il 30% dei trasferimenti nazionali che ammontano in tutto a 500 mila euro. Stando la normativa in vigore, infatti, c'è un tetto massimo di spesa che regola la restituzione ai Comuni delle cifre recuperate dalla lotta all'evasione. A livello nazionale, comunque, Bologna è già al primo posto come volume di soldi recuperati dall'evasione, segue al secondo posto Torino con appena 15 mila euro. Dall'agosto di quest'anno non ci sono stati più sviluppi sull'indagine aperta dalla Guardia di Finanza in merito alla gestione della sosta da parte di ATC, la ricorderete. Per questo il Comune fa appello alla Corte dei Conti perché chiuda l'inchiesta in tempi rapidi. Il servizio di Giuseppe Piloni. Chiudere l'inchiesta sul piano sosta in tempi rapidi è l'appello che arriva dal Comune di Bologna. Mi auguro che il magistrato contabile non impieghi dieci anni a dare seguito alla relazione della Guardia di Finanza, sottolinea la vice sindaco Silvia Giannini in commissione bilancio. Non ci sono novità rispetto ad agosto, spiega la Giannini. Dalla Corte dei Conti non è arrivata ancora nessuna richiesta di contradduzioni né al Comune né ad ATC. Sul tema interviene anche l'assessore alla mobilità Andrea Colombo. I 18 milioni derivanti dalla sosta furono lasciati ad ATC, ma il Comune disse perché cosa andavano utilizzati. Gestione dei parcheggi in perdita, attività di telecontrollo, acquisto di flotte bus più ecologiche, car sharing e bike sharing. E in ogni caso, sottolinea l'assessore, non è irrilevante che il sindaco abbia subito spedito una lettera ad ATC intimando il pagamento di quei 18 milioni. Il Comune si è tutelato attivandosi immediatamente. E la Giannini precisa che gli utili della sosta al netto delle imposte sono tutti di spettanza del Comune. Questo elemento di ambiguità presente nelle precedenti convenzioni è venuto meno. Ma il PDL non ci sta e punta il dito contro ATC. Il berlusconiano Daniele Carella attacca. Quando sollevamo il problema ci dissero che era falso, mentre oggi c'è un magistrato che certifica che è vero. E il capogruppo del PDL Marco Lisei ha presentato in commissione un ordine del giorno per invitare il Comune a chiedere una convocazione straordinaria dell'Assemblea dei Socii di ATC. Rimane una forte incertezza, dice Lisei, soprattutto perché l'azienda non ha accantonato né ha previsto l'accantonamento di quei 18 milioni di cui parla la Guardia di Finanza. e non mi pare nemmeno abbia cambiato comportamento sulla sosta da quando si è aperta l'indagine, conclude Lisei. Parliamo adesso di salute. Partirà tra pochi giorni la campagna per il vaccino anti-influenzale. La regione coprirà i costi per le categorie a rischio, bambini, malati cronici e anziani over 65. Il vaccino è consigliato anche per coloro che lavorano a contatto con il pubblico. Sentiamo Gabriele Sciarra. Partirà tra pochi giorni l'annuale campagna di vaccinazione contro l'influenza. È rivolta verso alcune categorie a rischio, quali ad esempio bambini, adulti oltre 65 anni, malati cronici. A queste persone viene offerta gratuitamente dalla regione Emilia-Romagna. Il periodo più idoneo per la vaccinazione è tra novembre e la fine di dicembre. La protezione inizia due settimane dopo la somministrazione del vaccino e dura tutta la stagione epidemica. Anche quest'anno il vaccino è valido anche contro il virus AH1N1 che provocò la pandemia del 2009. Le vaccinazioni vengono effettuate dal medico di famiglia e dai servizi preposti dalle aziende USL. Per meglio informare i cittadini, presto la regione avvierà una campagna di sensibilizzazione con distribuzione di depria negli studi medici e farmacie e con messaggi radiofonici diffusi dalle principali emittenti della regione. Ci fermiamo, c'è la pubblicità. Torniamo tra poco. Di nuovo studio con ETG Bologna. Prima di proseguire rivediamo il sommario del nostro telegiornale. Grande afflusso di cittadini tra ieri e oggi nei cimiteri di Bologna e provincia. Resta alto il desiderio di ricordare i propri cari defunti a dispetto della crisi, dicono quasi tutti i commercianti, i bolognesi non rinunciano a portare fiori sulle tombe. E nella giornata della commemorazione di tutti i defunti, il cardinale Caffarra ha celebrato la messa al cimitero della Certosa e i nostri cari defunti sono con Cristo, ha detto nell'Omelia. Una sanzione da 400 euro a un locale fracassone, in piena zona universitaria, multe a ubriachi molesti e sei baby spacciatori arrestati e il bilancio dei controlli fatti a Bologna nella serata di Halloween che lascia dietro di sé l'immancabile scia di polemiche. Chiudere l'inchiesta sul piano sosta in tempi rapidi è l'appello che arriva dal comune di Bologna. Mi auguro che il magistrato contabile non impieghi dieci anni a dare seguito alla relazione della Guardia di Finanza, sottolinea la vice sindaco Silvia Giannini. Partirà tra pochi giorni la campagna per il vaccino anti-influenzale. La regione coprirà i costi per le categorie a rischio, bambini malati cronici e anziani over 65. Il vaccino è consigliato anche per coloro che lavorano a contatto con il pubblico. Andiamo avanti con il telegiornale. Si è concluso stamane al binario 1 di Roma Termini il viaggio dell'eroe, cioè la rievocazione del viaggio che fece nel 1921 il treno con a bordo il milite ignoto. Viaggio appunto avvenuto 90 anni fa. Il convoglio nei giorni scorsi, due giorni fa, è passato anche per Bologna dove ha fatto tappa. Vediamo. 90 anni fa la salma del milite ignoto, simbolo di tutti i combattenti morti in guerra e non identificati, fu trasportata in treno da Aquileia a Roma, dove fu tumulata in Santa Maria degli Angeli e poi traslata al Vittoriano. Correva l'anno 1921. La grande guerra era finita da tre anni, ma l'Italia stava ancora seppellendo i suoi morti. Il treno, con a bordo il soldato senza nome, procedette a velocità estremamente moderata, in modo che la popolazione avesse la possibilità di onorare il caduto simbolo. Furono molti gli italiani che attesero, a volte anche per ore, il passaggio di questo convoglio. Oggi quel passaggio è stato ricordato dal viaggio dell'eroe, un treno che ha fatto tappa alla stazione di Bologna. In mattinata il convoglio si è fermato al binario 6 del piazzale Ovest. Presente il prefetto, Angelo Tramfaglia, la presidente del Consiglio Comunale, Simona Lembi, il questore Vincenzo Stingone, con loro il comandante dell'esercito dell'Emilia Romagna, il generale di divisione Antonio De Vita. Il treno ha portato con sé il drappo che avvolse il feretro con il milite ignoto, ma anche una ricca mostra fotografica, visitata dai diversi cittadini che erano presenti in stazione. Il convoglio è poi ripartito, portando con sé i suoi simboli e i suoi ricordi. Parliamo adesso di spettacolo e solidarietà. Giovedì 10 novembre a Palazzo Albergati a Zola Predosa è in programma il recital del pianista Ivo Pogorilec. Scusate la pronuncia, nell'ambito di una serata di raccolta fondi a favore della Fondazione Ante. Sentiamo Giuseppe Pilloni. Un concerto di beneficenza a favore della Fondazione Ante. L'otterrà Ivo Pogorilec, il celebre pianista di Belgrado, a Palazzo Albergati di Zola Predosa il 10 novembre prossimo. L'iniziativa è organizzata dall'Associazione Amici Ante e Bologna Festival. Completerà la serata una cena ai sapori e ai profumi d'autunno nelle antiche cantine di Palazzo Albergati. Per quanto riguarda il concerto, Pogorilec eseguirà brani di Chopin. Il concerto prevede l'esecuzione di due notturni di Chopin e la terza sonata sempre di Chopin sotto l'interpretazione di un pianista quale è Ivo Pogorilec, un pianista slavo classe 1958 che da 15 anni manca dal Bologna Festival. Era ora che tornasse, è un interprete di estremo interesse. 10 novembre, ore 20, Palazzo Albergati, suoneremo Chopin a sostegno dei sofferenti di tumore che assistiamo a Bologna ogni giorno. La Fondazione Ante, che è nata nel 1978 nella nostra città, ancora una volta chiede aiuto alle persone, ai cittadini, contro la crisi per le persone che hanno bisogno in questo momento. Noi su Bologna, oltre all'assistenza sanitaria che portiamo a più di 1200 sofferenti di tumore ogni giorno, diamo anche un aiuto sociale fondamentale in un momento di grave problemi economici. Cosa facciamo? Portiamo, diamo alle famiglie con un'ISE inferiore ai 12.000 euro, oltre 250 euro al mese per sei mesi ripetibili. Cambiamo il letto alle persone, portiamo i farmaci, portiamo i presidi sanitari. Un'assistenza a 360 gradi. Devo dire che l'assistenza domiciliare non è più una scelta, ma diventa un momento obbligato della sanità su cui le istituzioni devono parlare. E allora, con questo concerto, noi vogliamo ribadire che il nostro progetto Obiosia serve per sostenere i sofferenti di tumore e le loro famiglie. Ci fermiamo un'altra pausa pubblicitaria, tra poco. Di nuovo in studio con ETG, non ci sono notizie dell'ultima ora, ma rivediamo i principali argomenti del nostro telegiornale. Grande afflusso di cittadini tra ieri e oggi nei cimiteri di Bologna e provincia. Resta alto il desiderio di ricordare i propri cari defunti. A dispetto della crisi, dicono quasi tutti i commercianti, i bolognesi non rinunciano a portare fiori sulle tombe. E nella giornata della commemorazione di tutti i defunti, il cardinale Caffarra ha celebrato la messa nel cimitero della Certosa. I nostri cari defunti sono con Cristo, ha detto nell'Omelia. Una sanzione da 400 euro a un locale fracassone in piena zona universitaria. Multe a ubriachi, molesti e sei baby spacciatori arrestati. E il bilancio dei controlli fatti a Bologna nella serata di Halloween, che lascia dietro di sé l'immancabile scia di polemiche. Chiudere l'inchiesta sul piano sosta in tempi rapidi è l'appello che arriva dal Comune di Bologna. Mi auguro che il magistrato contabile non impieghi dieci anni a dare seguito alla relazione della Guardia di Finanza, sottolinea la vice sindaco Silvia Giannini. Partirà tra pochi giorni la campagna per il vaccino anti-influenzale. La regione coprirà i costi per le categorie a rischio, cioè bambini, malati, cronici e anziani over 65. Il vaccino è consigliato anche per coloro che lavorano a contatto con il pubblico. Con questo è tutto, il nostro telegiornale si chiude qui. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata. Grazie per averci seguito, vi auguro una buona serata.